La battaglia delle vacche sacre sembra essere una cosa dura da vincere perché esse rappresentano ai noi uno strumento evidente in mano all'andrangheta. Le vacche sacre entrano, ritornano, danneggiano, lasciano messaggi trasversali che stanno di minaccia e l'imprenditore Bruno Bonfacco e solo sa bene, sembra essere più una guerra contro i mulini a vento. Tante le segnalazioni rimaste inascoltate, viste le continue incursioni nella sua proprietà di questi animali che rimandano alla mente l'uccisione barbara del padre di Bonfac, trucidato a colpi di fucile proprio nella vallata della Verde negli anni 90, anni quelli di sangue e fatti di sequestri di persona. Un'azienda alla sua che mostra i segni evidenti degli ingenti danni che le sue piante di olivo e bergamotto hanno riportato, impedendone così ogni tipo di attività culturale e di lavorazione dei frutti. Un caso, quello di Bonfac, venuto alla luce anche durante alcune interrogazioni parlamentari, ma quello che lascia l'amaro in bocca a più di tutti è il mancato sin ad ora riconoscimento per le vittime di essorzione. Di quei famosi benefici dell'ex legge 44 del 99 che aveva introdotto un fondo apposito di solidarietà per coloro che erano state vittime di essorzioni e finite poi in mano all'usura. Ma oltre al danno la beffa, tanti i suoi ripetuti appelli a Presidente della Repubblica, Ministro della Giustizia, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria. E tutto questo gli è costato caro, persino la revoca della scorta, oltre che essere stato indagato per procurato allarme. Gli imprenditore Bonfac, che ha tirato su un'azienda dedita alla cultura del bergamotto e uliveto, a plurima diversificazione culturale e zootecniche, a strutture integrata di alta qualità, è sfuggito persino a un attentato. Attende fondi da oltre 20 anni per il danno subito e come se non bastasse, una parte dell'azienda è stata messa in vedita a causa di un'azione esecutiva pendente presso il Tribunale di Locri. Grazie! Grazie a tutti.